possiamo continuare con questo esercizio muovendo e ancheggiando con le gambe in modo tale da poter stimolare oltre gli obliqui sempre la parte inferiore del corpo quindi in questo caso stimolare la circolazione bassa della parte bassa facendo questo movimento l'importante ecco è stare dritti con la schiena è come se stessimo surfando possiamo vedere anche da dietro il movimento un esercizio semplice ma funzionale nello stesso tempo poi possiamo passare altri esercizi